ragazzi mi avete chiesto di giocare a base jump wing vediamo un po di che cosa si tratta tocca per iniziare dice è un poco ma sto volando sono caduto di sangue totale che hai detto no questa pubblicità ragazzi sempre la pubblicità mamma mia che palline allora attenti ho qua continuo tocca per iniziare ok attimiti ah ma forse no c'è una distanza da 167 ma qua se dice raccogli mi fa fare altre pubblicità lo sapevi? come ci devi fare per non andare sulla pubblicità? c'è ah è una cosa assurda è una cosa assurda uno ok attenti continua continua allora tocca per iniziare ok ok no 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 mi sono stato a a a a a a a a 161 allora allora ponteggio ma sono 77 metri ma ma non voglio raccogliere perché non voglio andare in 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 pubblicità qua mamma mia ragazzi come si deve fare per per non andare in in pubblicità però